Inauguriamo ora sabato il percorso QR Matcode, vale a dire un'installazione di codici QR, cioè di codici bidimensionali, che permettono di memorizzare tutta una serie di contenuti ricchissimi e che poi l'utente può scaricare mediante un iPhone o tablet. Sarà un percorso di visita guidata diverso e alternativo rispetto alla classica visita guidata tradizionale. Naturalmente non lo vuole sostituire ma vuole arricchirlo. Si tratta infatti di contenuti diciamo curiosi che riguardano la storia del museo, la storia degli artisti che sono ospitati appunto al Mat, la storia anche del palazzo che si intreccia poi anche con la storia di Clusone e soprattutto ci sono dei contenuti diciamo aggiuntivi che guidano il visitatore anche all'esterno del museo. Per noi questo è molto importante, cioè il fatto di dare comunque degli stimoli anche per continuare il percorso nella cittadina, quindi dalla Chiesa del Paradiso alla Basilica per arrivare naturalmente all'orologio planetario Fanzago. E come è stato possibile questo progetto? Il progetto è stato realizzabile grazie alla sinergia tra più partner. Infatti con il museo hanno collaborato la società Vivi su Serio nella persona di Ettore Verdi che è stato un po' l'ideatore e il propulsore di questo progetto partito alcuni mesi fa. L'emittente televisiva Radio Antenna 2 che ha realizzato una serie di filmati che sono rientrate appunto tra i contenuti aggiuntivi di questo percorso e la ditta ML Engraving di Onore che ha fornito lo studio e la ricerca sui QR code e ha poi anche donato al museo quelle placche con le incisioni dei QR. Sabato sarà una vera e propria giornata di festa? Sì, oltre a inaugurare questo progetto dei QR code festeggeremo insieme al Mat Club il suo terzo compleanno. Mat Club è l'associazione degli amici del museo, un supporto fondamentale per il museo e per le sue attività perché consente appunto con le sue energie, le sue risorse, le persone che sono appunto associate e di realizzare molte iniziative insieme. In particolar modo poi sabato sarà anche l'occasione per il Mat Club di nominare alcuni soci onorari che sono delle persone, diciamo degli amici speciali del museo che hanno appunto collaborato più volte con il Mat. Inoltre ci sarà possibilità anche durante questo incontro che inizierà alle 5.30 nel Parco Nastro Azzurro di fare anche una pausa ghiotta grazie alla collaborazione della Gelateria Gala di Clusone che offrirà appunto il suo gustoso gelato. ML Engraving è un'azienda che punta sull'innovazione tecnologica. Per questo motivo abbiamo deciso di collaborare a questo progetto del Museo Arte Tempo di Clusone perché riteniamo che sia un progetto assolutamente originale, innovativo e unico nel suo genere.